Buongiorno ragazzi, benvenuti di fiducia, intanto... Cosa fai? Stiamo accendendo questi... Mi raccomando, se non siete esperti non fatelo, infatti io non so perché l'ho fatto, perché non sono esperto! Cosa qui è mia madre, che è molto più sporca di me! Molto? Più sporca di me! Che bello! Non è forte, mi fa facci una foto, no, non ti arco una volta attorno, una foto così... Sono forse le migliori queste ragazzi, ve lo dico... Devi aspettare che vado a prendere la macchina, vado a provare a fare la foto... Tu ne accendi uno, poi le accendo io... Dove le buttiamo? Eh, mi aspettare che si rappedino... No, no, ma no, non è mica... C'era vuoto... No, sentiamo un segno! Ma adesso aspettiamo che si era freddo o poi le buttiamo a me... Puntiamo che si era freddo o poi le buttiamo a me... Allora aspettiamo che si era freddo... Perfetto ragazzi! Tornati! Ne accendero due adesso... Aspetta che voglio fare coso! S2... No, una sopra la tovaglia... Non stare proprio sopra la tovaglia... E' parte anche l'altra parte... Non bussa neanche qui? C'è anche questo... C'è anche questo... C'è anche questo...